Ciao a tutti, io sono Rogana e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di batteria e di iPhone un connubio che in realtà non ha mai dialogato molto bene ma cercheremo di capire oggi come fare a migliorare la saturata parlando del mio dispositivo personale che è un iPhone X innanzitutto chiaramente voglio prima sfatare alcuni miti che ancora circolano nel senso che insieme appunto a parlare del ciclo di ricarica alcuni dicono appunto che bisogna appunto ricaricare l'iPhone solo appunto quando arriva comunque al 10% al 500% appunto non, se per dire è al 40% anche al 60% appunto insomma quando appunto è carico in realtà questo caso appunto non è vero nel senso diciamo che l'optimum sarebbe quello di ricaricare l'iPhone quando magari è al 15% 20% questo appunto è chiaro però comunque se lo ricarichiamo per esempio quando è al 50% essenzialmente l'iPhone arriverà al 100% avendo fatto appunto praticamente metà diciamo del ciclo di ricarica appunto perché un ciclo di ricarica appunto chiaramente arriva al 100% quando appunto noi andremo a ricaricare no? di un altro 50% l'autobatteria l'iPhone avrà diciamo tra le bocette compreso no? che avrà fatto un ciclo di ricarica completo quindi non è una cosa di cui appunto dobbiamo preoccuparci come non dobbiamo neanche preoccuparci di lasciare in carica appunto l'iPhone di notte se le lasciamo di notte appunto il telefono caricare specialmente con la ricarica wireless appunto che uso appunto ogni notte infatti non accadrà nulla appunto così come non accade nemmeno appunto per dire con l'Apple Watch quindi insomma possiamo appunto stare tranquilli perché le batterie appunto agli ioni di litio hanno appunto queste diciamo queste migliorie cioè queste caratteristiche appunto più moderne che ci permettono in qualche modo di non pensare un po' anche a certe cose essendo insomma un pochino più liberi appunto nell'usare i dispositivi appunto come meglio ci viene altra cosa da dire guarda appunto no? chiudere le app dal multitasking appunto può migliorare cioè può aumentare la tua batteria semplicemente per dire siamo appunto in emergenza batteria non è così nel senso è chiaro che se io appunto sono al 2% ho appena aperto un gioco diciamo che mi sciupa il 10% di batteria ogni minuto è chiaro che cioè chiaramente lo vado a chiudere ok ma andare a chiudere tutte le app ogni volta ogni minuto anche quando l'iPhone è al 100% non ha senso perché come appunto è stato anche spiegato appunto in maniera proprio tecnica essenzialmente quando appunto noi andiamo a chiudere un'app diciamo che l'iPhone in qualche modo la congela appunto è come se in qualche modo fosse appunto sempre pronta ad essere attivata ad essere usata ma congelata questo chiaramente quindi diciamo ci aiuta in qualche modo a non pensare appunto a questo se noi invece appunto la chiudiamo la RAM appunto che quindi diciamo l'andrà cioè come dire l'app non essendo più sulla memoria RAM dovrà essere ricaricata e quindi praticamente l'iPhone diciamo dovrà rifare tutto il processo appunto a capo andando a sciupare più batteria quindi non ci conviene appunto andare a chiudere tutte le app poi chiaramente appunto quest'iPhone diciamo dall'iPhone X in poi appunto abbiamo ovviamente gli schemi appunto OLED quindi insomma ci aiuta appunto chiaramente a sfruttare appunto ad esempio che so degli sfondi appunto di color nero purtroppo ancora non c'è la dark mode appunto nativa diciamo in iOS ma faremo appunto che la implementino appunto con iOS 13 si può appunto utilizzare magari appunto su alcune app come Messenger, YouTube insomma che già l'hanno implementata appunto ma ancora su iPhone diciamo nativamente non c'è altra cosa a dire appunto è che andando nell'imposazione appunto sessione batteria potremo cliccare appunto sullo stato batteria e capire appunto come sta la batteria cioè appunto capire fino a che punto appunto diciamo è nuova e diciamo in qualche modo a giro di conseguenza cosa voglio dire voglio dire appunto che dopo un piccolo diciamo scandalo che è emerso appunto diciamo negli ultimi anni essenzialmente alcuni iPhone in pratica con la diciamo con la batteria appunto nuova andavano più veloci perché questo? perché la batteria essenzialmente essendo appunto vecchia non diceva non poteva più sopportare appunto andiamoci così la potenza insomma la potenza appunto richiesta dal processore per diciamo girare appunto bene quindi la soluzione è quella appunto la soluzione è quella di andare a diciamo limitare appunto le prestazioni dell'iPhone facendo in modo che la batteria non si stressasse perché se questo avviene essenzialmente diciamo l'iPhone può anche spegnersi improvvisamente ora attivamente iOS appunto agisce così quindi l'iPhone può andare un pochino più lento quando la batteria è vecchia però da queste impostazioni appunto noi potremo decidere anche di diciamo appunto per esempio in maniera un po' masochista di andare appunto ad accettare la condizione appunto che il telefono possa spegnersi apprezzo che però comunque le prestazioni siano sempre in qualche modo originali insomma come all'inizio la soluzione appunto è quella di andare a cambiare appunto batteria diciamo per risolvere un po' il problema appunto dalla radice quindi ora appunto possiamo partire appunto invece con questo diciamo questo tutorial appunto riguardo a come aumentare la durata dalla batteria di nostro iPhone partiamo chiaramente dalle prime impostazioni appunto cioè Wi-Fi e Bluetooth non sono due diciamo due elementi che alla fine sciupano chissà quanta batteria perché sono ottimizzati appunto per diciamo non richiedere appunto troppa energia chiaramente noi appunto siamo sempre in mobilità non abbiamo Wi-Fi o non abbiamo dispositivi appunto a cui connettere iPhone non come me appunto che invece ho sempre l'Apple Watch non ha senso tenere gli attivi questo mi sembra appunto logico specialmente se magari appunto il Wi-Fi siamo appunto in una zona appunto in cui non prende o non c'è Wi-Fi non prende non ha senso tenere l'attivo appunto e mandare l'iPhone sempre di continua ricerca poi appunto portandosi invece su notifiche qua diciamo chiaramente chiaro che non ha senso tenere notifiche tenere diciamo le notifiche appunto attive per le app appunto che non ci servono che non ci interessano sia perché è fastidioso sia perché alla fine significa che il nostro schermo diciamo che lo schermo dell'iPhone si deve appunto accendere più volte inutilmente quindi possiamo andare cliente a scegliere quali app devo mandarci le notifiche anche appunto come devono mandarcele attraverso appunto l'apposito menu di iOS e in questa maniera andiamo appunto a risparmiare anche una buona percentuale di batteria se per esempio appunto abbiamo non so anche 20 app 30 app appunto inutili che non utilizziamo o che comunque non ci interessa diciamo ricevere le notifiche e così diciamo anche una piccola parte di batteria è risparmiata poi appunto andiamo nella sezione appunto generale in cui troviamo anzitutto appunto aggiornamento software ed è una cosa appunto da dire l'aggiornamento software diciamo che spesso può anche migliorare la batteria specialmente quando magari viene rilasciata la prima versione appunto che so iOS 12.0 iOS 11.0 e così via quindi fate comunque aggiornamenti perché i miglioramenti possono anche appunto diciamo possono anche arrivare tramite aggiornamento software altra cosa da dire è iDrop iDrop appunto sciupa un sacco di batteria se alla fine non lo utilizziamo quindi vi consiglio sempre appunto di disabilitarlo è chiaro se devo ricevere appunto un file, una foto, quello che è lo attivo ma altrimenti non ha senso lasciarlo attivo quindi disattivatelo appunto sempre perché alla fine non penso che in continuazione riceviate foto, video poi appunto end off end off in realtà c'è neanche su batteria però comunque è chiaro che se non avete altri dispositivi appunto come iPad o Mac che comunque vi permettono appunto di andare a continuare perché questa è la funzione di end off di andare a continuare appunto un'azione da iPhone sull'iPad o viceversa non ha senso tenere l'attivo perché alla fine comunque certo un po' di batteria se ne va quindi se non avete altri dispositivi appunto al di ford iPhone Apple non ha senso chiaramente tenerla attiva poi poi andiamo qua su accessibilità abbiamo appunto in realtà diciamo la voce diciamo non so perché l'hanno messa qua appunto ma su regolazione appunto schermo appunto abbiamo luminosità automatica infatti appunto una importante sezione di diciamo riguardo alla batteria riguarda appunto proprio lo schermo quindi in pratica riguardo all'unicità non teniamola sempre al 100% sia perché in realtà comunque da un po' fastidagli occhi sia perché comunque ci sono un sacco di batteria andando ad attivare appunto l'unicità automatica essenzialmente l'iPhone si preoccuperà di diciamo gestirla appunto in base alle resigenze in base alle connessioni appunto ambientali e non andremo a esterne appunto a preoccuparci di tutto ciò quindi invece appunto ha la sezione appunto schermo e luminosità ma anche se ora appunto torniamo alla sezione generale appunto perché c'è altro da dire abbiamo appunto anche qua blocco automatico appunto e vi consiglio di impostarlo appunto al massimo uno o due minuti ma diciamo non di più perché alla fine non mai, non su mai perché alla fine se imbiscolate appunto l'iPhone sul tavolo lo so, col telefono accesso, con l'altro schema accesso alla fine darci fare un sacco di batteria appunto inutile che invece in questa maniera potete assolutamente dispagnare poi appunto nella sezione sfondo appunto non vi consiglio di mettere sfondi live o prospettiva perché sciupano chiaramente batteria quindi statico, vi conviene e ora passiamo tornare appunto alla sezione generale appunto dove ripartiamo appunto con la voce appunto aggiornamento app in background che qua c'è molto da dire qua diciamo che essenzialmente possiamo andare a disabitare appunto se vediamo precisamente queste app appunto come appunto Facebook chiaramente, Instagram, Whatsapp che sono quelle che superano appunto in generale di più batteria è una funzione appunto diversa che ci permette in pratica di avere già il contenuto appunto delle app appunto come Whatsapp, Facebook, Instagram quelle in pratica che si devono appunto diciamo caricare che si devono aggiornare già diciamo pronte appunto già diciamo aggiornate appunto quando andiamo a aprire senza che dobbiamo appunto aspettare quei due o tre secondi una volta aperte è una funzione chiaramente che può farsi risparmiare tempo ma di sicuro non batteria effettivamente sarà più attiva per tutte le app quindi vi conviene appunto disabilitarla perché alla fine credetemi non vi cambierà più di tanto alla fine potete sempre riabilitarla appunto non è un contratto a vita quindi alla fine la andate a riabilitare anche solo per quelle app appunto in cui questa funzione vi sembra essere più utile poi sempre qua appunto abbiamo no qua in realtà forse abbiamo finito appunto sì credo che non ci sia più niente noi appunto invece uscendo da questa sezione abbiamo Siri e cerca perché appunto qua abilita appunto i Siri questa funzione appunto ci permette in pratica di richiamare appunto Siri senza appunto dover prendere appunto il pulsante ma essenzialmente sciuva appunto batteria perché l'iPhone diciamo diciamo che ascolta costantemente appunto quelle parole appunto che alla fine lo fanno attivare quindi vi consiglio di disabilitarlo in questo momento appunto solo attivo perché alla fine diciamo l'iPhone non è proprio nuovo quindi la batteria comunque già di per sé dura un po' di meno ma di questo ne parliamo dopo quindi alla fine vi conviene comunque disabilitarlo ma comunque se attivo seppate appunto che la batteria durerà leggermente di meno poi appunto abbiamo qua sessione batteria appunto già ve l'ho parlato appunto cosa da dire chiaramente è il rifiame energetico che chiaramente può tornare sempre utile perché riduce appunto le attività in background esecuzioni download raggiornamento delle mail insomma piccole cosette che chiaramente diciamo non penso che diciamo cose appunto a cui non pensate quando alla fine avete l'iPhone in stato di emergenza a batteria potete anche diciamo attivarla magari che so anche quando l'iPhone è al 100% per dire e volete appunto quel giorno avere una batteria veramente più lunga prolungarla per un motivo X insomma non so per qualche giorno appunto particolare in cui ne avete bisogno e appunto poi abbiamo la sessione privacy le ultime diciamo due sessioni appunto più importanti appunto che sono privacy in cui appunto c'è un altro mondo nel senso che qua nella voce appunto localizzazione essenzialmente possiamo andare a condividere la mia posizione diciamo che serve appunto per far vedere appunto altre persone appunto altri amici che chiaramente non abbiamo scelto dove si trova l'iPhone quindi dove ci troviamo noi se non avete appunto amici se non avete configurato appunto l'app trova amici potete appunto chiaramente disabilitarlo poi appunto qua invece abbiamo l'elenco delle app appunto che richiedono la vostra posizione tranne per alcune app magari che so Meteo quella potrebbe essere insomma l'unica e vi conviene appunto impostare tutte appunto su My se magari appunto non vi interessa che quell'app appunto usi la vostra posizione oppure appunto impostarla come ho fatto io se è in uso quindi quando utilizzate quell'app l'app appunto diciamo che essenzialmente richiederà la vostra posizione questo diciamo serve tantissimo di premiare veramente forse è la sezione più dispendiosa appunto di batteria dell'intero iOS poi appunto abbiamo la sezione appunto servizi di sistema che diciamo è molto importante qua diciamo attivare quelli che veramente servono per esempio appunto a vista posizione dipende se utilizzate appunto dentro dei problemi appunto che so ricordami quando esco da casa di comprare in cosa chiaramente a vista posizione appunto vi serve per poter essere diciamo geolocalizzati e l'iPhone di conseguenza vi dirà se ci siete di casa bene ricordate di fare questo in questo caso può servire poi appunto vi servirà per carità chiamate le emergenze appunto SOS questo appunto sicuramente poi condividi la imposizione appunto se sono discorsi prima appunto se avete configurato l'app Trova Amici bene altrimenti le potete togliere poi impostazioni di fusore diciamo vabbè chiaro se voi vedete sempre appunto H24 e ogni giorno siete in un posto nuovo in cui appunto il fusore è diverso chiaramente attivata altrimenti no e poi l'altra importante è chiaramente trova il new iPhone appunto quella diciamo sicuramente non è vi consiglio appunto di lasciarla attiva per il resto appunto le altre sono praticamente inutili e vi vanno a sciopare avete tanta batteria questo ve lo posso assicurare posizioni rilevanti anche qua diciamo è una funzione appunto che può essere utile in alcuni casi perché alla fine appunto avremo come appunto dice l'escrizione appunto cioè informazioni utili ricavate in base alla posizione su mappe calendario foto appunto e molto altro appunto quindi diciamo che l'iPhone impara un pochino dove andiamo e ci dà appunto avvisi in tal senso però dico attivatela provate vediamo se provate questa funzione vedete appunto se alla fine avete diciamo dei benefici che diciamo a cui non vete rinunciare altrimenti l'andate appunto a disabilitare poi appunto qua analisi appunto migliormente prodotto qua analisi iPhone e poi altro vi consiglio appunto di disabilitare più che altro i dinarii a traffico e i popolari vicino a me perché quelli appunto richiedono la posizione e possono sciopare molto altra cosa da dire appunto tenete attiva icona barra di stato perché quella diciamo che vi dà un attimino un'idea appunto di quelle app in generale comunque del fatto che l'iPhone non si sta utilizzando la vostra posizione e così siete coscienti del fatto che magari la batteria sta scendendo appunto velocemente proprio per quel motivo quindi questa è la cosa e appunto così vi appare insomma l'icona appunto dei servizi di localizzazione poi appunto l'ultima sezione appunto sempre qua movimento appunto e fitness potete andare appunto a disabilitarla va diciamo in qualche modo a migliorare appunto la precisione dei dati appunto rilevati da iPhone riguardo appunto ai nostri movimenti ma se avete un'Apple Watch potete appunto anche farlo a meno perché chiaramente va a diciamo sfruttare appunto i sensori appunto di movimento appunto per analizzare bene appunto quelli che sono appunto i nostri spostamenti i gradini i chilometri e quant'altro poi c'è una sezione appunto riguarda invece password appunto account in cui possiamo andare a decidere appunto anzitutto qua scarica nuovi dati anzitutto per quali per quali appunto indirizzi mail vogliamo diciamo fare in modo appunto di ricevere le mail o diciamo direttamente o in maniera manuale cioè in pratica per quelli indirizzi che magari non usate appunto che non vi interessano molto non ha senso appunto che costringete iPhone diciamo a mandare direttamente le mail come notitiche perché ci vuole la batteria anche proprio per il fatto che le mail direttamente dal server arrivano su iPhone quindi mettete su manuale appunto la voce per il resto appunto invece potete appunto decidere di mettere appunto su scarica scarica che cosa vuol dire appunto vuol dire che se avete appunto attivato la funzione push questa qua quando possibile i miei dati verranno inviati iPhone dal server vuol dire che essenzialmente appunto le mail direttamente vi arrivano appunto in maniera diciamo praticamente istantanea se invece appunto la funzione push non è attiva o non funziona appunto per un'app allora in pratica potete appunto andare a diciamo decidere appunto ogni quanto volete che le mail appunto direttamente vi arreghino io appunto ho impostato diciamo più o meno su ogni ora potete anche decidere ogni 30 minuti ma non di più direi anche troppo ogni ora oppure anche automaticamente appunto quindi poi dice iPhone scaricare la mia dati in background solo quando sarà in carica e connesso a una rete wifi questo magari appunto è proprio diciamo una versione più esterna quindi magari consiglio appunto ogni ora appunto in modo tale che alla fine siete comunque aggiornati insomma in maniera sempre diciamo con ecco un lasso di tempo alla fine diciamo minimo quindi in pratica i consigli appunto della batteria sono questi chiaramente provateli fatevi sapere un pochino cosa pensate appunto e se effettivamente appunto vi hanno aiutato altra cosa da dire appunto l'ultima cosa appunto chiaramente diciamo iPhone non ha mai avuto appunto una batteria diciamo eccellente appunto anzi in realtà quegli ultimi diciamo aggiornamenti alla fine quegli ultimi diciamo iPhone ha avuto alla fine una batteria diciamo notevole anzi alla fine appunto l'ultima iPhone appunto come iPhone XS Max alla fine la batteria appunto diciamo è migliorata notevolmente più grande in generale comunque l'iPhone non è mai stato popolare appunto per una batteria diciamo così efficiente al massimo facendo così potete appunto lentamente migliorare appunto la sua capacità l'ultima cosa da dire appunto è che qualche volta appunto ogni tanto potete appunto effettare un'operazione di calibrazione cosa vuol dire? vuol dire che in pratica dovrete andare a far scaricare del tutto la vostra batteria del telefono proprio 0% ma questo solo in alcuni casi che ora vi dico e farla caricare senza interruzioni e senza utilizzarlo se possibile fino al 100% questo va fatto quando? quando ad esempio vedete appunto che che so la batteria cala dal 50% al 45% così di botto oppure quando il telefono è nuovo quando il telefono l'avete ripristinato quando il telefono l'avete ripristinato da un backup insomma in questi casi in cui l'afono comunque è nuovo o deve imparare o reimparare tra virgolette a come cioè a gestire a come gestire appunto la sua batteria questa operazione può appunto calibrare appunto la stessa e dicevo migliorare appunto l'esperienza appunto di utilizzo in questo senso non fatela sempre perché non fa bene all'iPhone fatela appunto che so appunto magari anche ogni 3 mesi così diciamo di routine 4 mesi vedete voi o anche facilitamente in quei casi appunto che vi ho detto quindi questo è il mio consiglio spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere appunto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui sul canale di Cana ciao